Ma intanto il valore del workshop è grandissimo proprio per la costruzione di un ecosistema, cioè cercare di costruire punti e abbattere il silo, se non è stato il reggio della grande comunicazione, a riuscire a promuovere un cambiamento sociale di un nuovo richiedo e di tutto. Per quanto riguarda le fondazioni private, le fondazioni italiane e le imprese di comunità, a studio l'associazione italiana delle fondazioni private lavora tantissimo perché si possa investire nelle imprese sociali in una prospettiva diversa da altri prodotti. Le fondazioni hanno un valore aggiunto nel come e non tanto nella quantità di risorse, ma anche nella qualità che possiamo fare. per avere la tendenza creata, la continua finanziaria, ma anche per la possibilità che hanno di assumersi rischi, di sperimentare approcci e quindi di entrare nei territori, in questi rischi e facendo forse una piccola differenza. Grazie. 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 Grazie.